salve sono giorgio ciao a tutti da iota e bentornati su questo canale oggi proveremo pyramid plunge allora l'intro è bellissimo complimenti anche per la musichetta scegliamo italiano te l'ho detto dovevamo andare dall'altro lato per raggiungere la guida ah ma col joypad ok va bene joypad io sono un amante del mouse e tastiera sono sicuro che sia di qua sento dei passi la musica è sempre come al solito altissima nei videogiochi sviluppatori per favore mettetela a metà poi sarà l'utente a scegliere se lo vuole al massimo oppure no probabilmente i miei passi come cara niente parlavo da sola dove sono finiti quei bastoncini luminosi che ci ha dato la guida eccoli comunque l'uscita della piramide è sempre verso il basso andiamo ok prima si può ok audio a musica è la 70 addirittura 30 bello però il menu un po miscelanza miscelanza integrazione twitch cosa sarebbe continua ok andiamo su mi sente come un ho dormiato da mille anni mi sente come ho dormiato da mille anni vai ok penso che era mi sento come se avessi dormito da mille anni non lo so devo svegliare tutte le mie creature e rovinare il mondo una volta di nuovo ok inchiesta e adorami inchiesta inchiesta e adorami se vuoi che ti risparmi la vita vabbè anch'io sono un po' giorgio anch'io sono un po' strefatto da vabbè puoi indicarci l'uscita e lasceremo a te va bene va non ho tempo per te ora ci sono un po' di problemi con la localizzazione ho bisogno di raccogliere i miei servi affrontare i quattro grandi regni quanto a te mi piacerebbe guardare mori per i miei fedeli servi va bene ok quel ragazzo da pazzi è andato ah scusa quel lavoro da pazzi è andato vabbè è uguale puoi scendere adesso non c'è bisogno di avere paura cosa sei fuori di testa non sto scendendo in questo baratro va bene scivolo e mi spacco la schiena bravo così si spacchi la schiena cosa vuol dire spacco la schiena e spacchi pure la testa questa è un'idea infatti cos'è detto no nulla ho detto vieni giù ti prendo non fischia x più a dai una spinta felice trasporta felice ah ok e lei butta la corda ok invece così afferra la corda e lui sale ah fico trasporta felice vabbè guarda buttati ok perfetto ho capito ho capito fischia felice e questo cos'è raccogli pietra trasporta pietra trasporta ma no bellissimo oh mi piace questa cosa mantieni pietra lascia pietra lancia pietra è felice vediamo aspetta bellissimo ma gli spacchi la faccia alla bambina vabbè vieni felice ma no ma lei non si muove ma come ma ha dato uno schiaffo ma che cacchio è sto gioco ok va bene trasporta ah ok salta ok siamo ancora nel tutorial salto doppio ah ok bene monetine ok ah perfetto e mo lancia vai ah ma tu lanci la donna per ammazzare le cose mi piace sta cosa e poi cosa faccio eh ma dalla ah ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta ok adesso cosa vuole ah tu fai posa ok e poi gli dici no è così tipo lancia esatto lei tira giù la corda e noi saliamo ok perfetto afferra la corda e lei ti tira su perfetto tira la su ok ah ma era al contrario vabbè vabbè questo possiamo felice prendiamo questa e la lanciamo ok abbiamo preso la dinamite ma lei mi segue vabbè vabbè la tiro io su perché questa qua mi sa che non non segue ok qua cosa dice piazza la bomba ma dove dai un attimo ferma qua qua così penso di si oh ci lascia le penne bra vieni qua slafona scendiamo ottimo sì dai la spinta va bene questo me lo ricordo vai e poi saliamo ok andiamo Giovanna ahia ma ha fatto malissimo ma no eh lo so ma ti sei messo in mezzo felice sta male George felice sta male vabbè poi capiremo perché si chiama felice secondo me si chiama in un altro modo in inglese l'hanno tradotto in italiano infelice va bene ok adesso questo qui dobbiamo lanciare lei esatto e qua come facciamo ah ok va bene lasciamo lei facciamo così esatto e poi saliamo noi vai e prendiamo la cesta aprirò questo tesoro in un barter d'occhio apri baure poi prendiamo questo prendiamo anche lei e completiamo ciao wow ok tempo rimanente nemici uccisi 31 di 31 bottino raccolto segreti 0 aggiungi alla lista dei desideri f1 ma perché ogni tanto è col mouse con il testiero vabbè oh mi hai spaventato salam amici miei pensavo di essere l'unico intrappolato qui finalmente una faccia amichevole puoi aiutarci ci siamo persi non ci siamo persi so esattamente dove stiamo andando sì giusto gli esploratori prima di noi sono morti e per i pericoli di questo posto hai notato le loro ossa vicino alle loro casse spasse nella piramide onestamente no suggerisco di unire le forze se non vuoi finire come loro vai avanti prima di me e io ti seguirò beh furbo il tizio eh e in cambio ti farò grandi aff ti farò grandi affari in cambio ti farò grandi affari per cose che troverai sicuramente utili sembra un affare hai delle armi fammi vedere cosa riesco a trovare bazar ah ok quindi chiedi informazioni su minanti uomo chiedi informazioni su mazzo di banane come mazzo di banane vabbè mazzo di banane chiedi informazioni su salute ah mi sono interessato a pacchetto salute lo riforneremo di una vita vuoi comprare per 500 dollaroni sì sì quanti ne ho io e come si fa a comprare acquisto sì 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 lo acquisto ok grazie sei molto gentile e come si fa a utilizzare l'oggetto come faccio a utilizzare l'oggetto vabbè grazie guarda la luce aspetta quanto gas hai va bene ah quasi dimenticavo potresti trovare questa mappa a portata di mano what ok potresti trovare questa mappa a portata di mano va bene prendiamola così come viene ah ok dove andiamo destra o sinistra destra o sinistra è uguale tra l'altro mi dice di premere x ho premuto a però va bene però non ho capito come si usa l'oggetto su giù sinistra azione cv ah c'è la tastiera xbox quindi cerca nell'inventario uso oggetto dall'inventario la y b abbassati salta porta e fischia direzione quindi questo ok vabbè l'abbiamo fatto ciccià to è bellissimo ah madonna gli sprendi a schiaffo bellissimo è bella sta cosa però ma questa cassa era così ok e questo è il fenicottero aia è difficile lanciare lanciare la tizia contro le cose poi specialmente contro il fenicottero ah ma li posso schiacciare pure così non lo sapessi aspetta vediamo ok eh ci devo prendere la mano io non sono molto bravo nei platforming troppo giusto siamo morti che succede è stata una morte un po' stupidina giorgio morto per uno scorpione punteggio pun pungente punteggio e inserisci il nome ma che è sto rumore è lui che vola te lo dico io madonna ma 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 trapassato i timpani basta le ali ti prego ah ok sette continua ok bene signori gioco finito dovevo entrare e giocare a continuare bene spero che vi sia piaciuto spero che abbiate capito di più da questo gameplay se il gioco vi piace oppure no naturalmente non lascerò nessun commento o giudizio aspetta a voi decidere se il gioco vi piace oppure no sotto in descrizione vi lascerò il link di steam come sempre se volete supportare il canale basta un like o un commento e se vi va iscrivetevi come sempre siete amici alla prossima bye bye salve sono Giorgio ciao